Musica Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa che tutte le mattine vi accompagna nella vostra giornata Sono le 7.30, siamo in diretta e naturalmente i giornali sono pronti e anche le previsioni del tempo però come sempre facciamo tutte le mattine e naturalmente guardiamo anche l'almanacco del giorno quindi il santo del giorno con il sole che è sorto Allora, forse non è pronto, ecco qua sabato 13 agosto, Santi Ponziano e Ippolito il sole è sorto alle 6.10 e tramonterà alle 20.16 Guardiamo come si presenterà il tempo in queste ore per quanto riguarda appunto la giornata di oggi il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per lievi addensamenti cumuliformi a ridosso del crinale appenninico vedete insomma l'unica zona con una presenza di nuvole le precipitazioni sono assenti, le temperature in lieve aumento venti nord-occidentali in brezza leggera poi previsioni per domenica, questo è un weekend lungo un ponte anche quello di Ferragosto che si presenta sotto i migliori auspici almeno dal punto di vista del tempo, sereno o al poco più nuvoloso senti le precipitazioni anche per domenica e anche qui vedete di descalie molto scarne per lunedì appunto il giorno di Ferragosto sole pieno su tutta la regione, nessuna precipitazioni venti a regime di brezza e anche il mare molto calmo quindi insomma queste sono le previsioni, quello che si prospetta per le prossime 48 ore e speriamo che queste vengano rispettate allora guardiamo i giornali, partiamo subito dalla notizia calda ieri è stato il giorno dell'autopsia sulla mamma morta all'ospedale di Fano nel reparto di ginecologia, tutti e due i giornali titolano su questo c'erano anche gli ispettori del Ministero della Salute allora vediamo il resto del Carlino, titola appunto così la morte della giovane madre, c'è stata l'autopsia che ribadisce un evento raro e resta appunto centrare l'ipotesi di embolia polmonare da liquido amniotico ieri appunto poco dopo le due i tre periti nominati dal Tribunale sono entrati nella camera mortuaria per eseguire appunto l'esame, l'autopsia dalle prime risultanze appunto questa è l'ipotesi un'ipotesi di una tipologia molto rara questa embolia sarebbe scatenata appunto secondo quanto trapela nelle prime ore dal liquido amniotico del feto morto che ahimè la mamma si portava in pancia quando è arrivata all'ospedale di Fano questa è l'ipotesi anche che aveva ventilato i nostri microfoni Claudio Cicoli il dirigente dell'unità operativa appunto di Fano poche ore dopo l'accaduto proprio in un'intervista che ci ha rilasciato anche il Corriere Adriatico parla di questo nell'articolo Lorenzo Furlani titola però l'autopsia non ha sciolto i dubbi è un mistero la morte di Carmen oggi in Duomo a Senigaglia l'addio alla giovane mamma e al bambino che portava in grembo nessuna evidenza patologica dopo queste ore di lavoro dei periti esami appunto effettuati anche sul corpicino del piccolo Mattia così si sarebbe dovuto chiamare il suo bimbo che pare sia anche questo decesso naturale però i periti hanno 60 giorni per consegnare una risposta strutturata al pubblico ministero sulla caduta quindi aspetteremo quello che metteranno come si dice nero su bianco e anche Nasse e Ispettori in ospedale a Fano per la task force del ministero appunto al Santa Croce hanno acquisito cartelle cliniche e ascoltato i 12 indagati e questo confronto con dirigente medici e ostetriche e anestesisti si è protratto fino a tarda notte naturalmente l'inchiesta prosegue alla procura e il Movimento 5 Stelle chiede anche una commissione regionale andiamo a vedere però dall'inizio partiamo dall'inizio della pagina di apertura del resto del Carlino le altre notizie presenti sul quotidiano si parla di ladri in fuga che speronano i carabinieri sono stati sorpresi con il rame rubato da impianti isolanti assaltati naturalmente anche ristoranti, abitazioni, fabbriche e quant'altro per recuperare l'oro, il nuovo oro, il rame e poi i scafisti della droga sbarcano alle foci del metauro con quasi due tonnellate di marijuana ma sono stati presi dagli agenti della polizia che li aspettava al varco ed ecco la notizia dello speronamento delle forze dell'ordine sono carabinieri che hanno rischiato la vita attimi di paura a Santa Maria dell'Arzilla i banditi avevano un carico di 200 kg il solito oro rosso appunto il bottino era entrato insomma dentro era dentro l'altro forse rubato in diversi impianti della zona due i mezzi intercettati un ducato e poi una mondeo appunto e vedete qui nella mondeo vi indico insomma ecco nel bagagliaio il materiale ritrovato dai carabinieri che con grande prontezza di spirito e anche sangue freddo hanno impedito la fuga di questi banditi continuiamo nelle pagine del resto del carlino andiamo a Fano vi porto a Fano perché si parla del referendum c'è una gelata fredda per il comitato perché è un secco no la commissione la commissione all'unanimità dice inammissibile questo quesito referendario i motivi però sono ignoti e così al macio se ne vanno 3.800 firme la rabbia delle naturalmente opposizioni qui vedete De Marchi che consegna il primo firmatario di questo referendum consegna al sindaco Seri in piazza quest'inverno il plico contenente tutte le 3.800 firme appunto sull'ipotesi di referendum che era stata avanzata e poi si parla anche del feietton dell'Isippo e Capecchi di Confcommercio lancia un'ipotesi insomma facciamo così per risolvere questo impasse facciamo uno scambio l'angelo del Guercino per il l'Isippo e lui insomma esprime le sue perplessità perché dice per me è stato un errore avviare questo braccio di ferro con gli USA perché poi si sapeva come sarebbe andata a finire parliamo di eventi andiamo nella pagina che si occupa anche della Val Cesano in taglio centrale quello che avverrà a Pergola che presenta cala un trisse di eventi per deliziare il turista ma anche i locali notte fira d'estate e serata medievale sono 5 giorni tutti quanti da vivere a Pergola ma poi in alto in testa di pagina vi faccio vedere questa notizia continuano i salvamenti in mare di persone in difficoltà anche questo si è verificato nelle ore scorse il mare mosso non fa sconti a nessuno Mattia De Benedictis è il bagnino che ha salvato in Sassone una bimba di 10 anni strappandola alle onde e insomma qui vedete nell'articolo tutti i particolari di questo episodio che fortunatamente è andato a finire bene prudenza 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 tanta prudenza anche in questi giorni in queste ore spesso verranno qui sulla costa persone che magari non hanno grande dimestichezza col mare quindi tanta prudenza fate il bagno dopo diverse ore che avete mangiato se le onde non sono ideali non buttatevi in mare insomma i bagnini sono lì certo per vigilare per rendere la spiaggia sicura ma insomma se se si verificano due o tre casi contemporaneamente possono andare in difficoltà anche loro quindi rendiamoci la vita più facile ma rendiamola anche a quelli che lavorano vi porto nelle pagine del Corriere Adriatico nella pagina insomma d'apertura si parla di candele l'accensione record per una notte da record appunto l'evento più atteso batte polemiche e maltempo insomma e poi traffico di marijuana anche qui fotonotizia vedete gli agenti della polizia con quanto hanno ritrovato due tonnellate di droga nel gommone blitz alla foce del fiume Metauro e conseguente maxi sequestro si parla anche di ospedale di ospedale unico di sito di ospedale unico con questa applicazione che contiene questo algoritmo per individuare secondo alcuni parametri qual è il sito migliore dove ubicare questa nuova struttura e per il nuovo ospedale Muraglia risulterebbe essere il sito migliore però il centrodestra va un po' contro questa applicazione di Ceriscioli perché sono stati trascurati non sono stati inseriti in questo algoritmo parametri importanti e quindi la scelta naturalmente è bloccata 5 i siti candidati per il nuovo ospedale di Marche Nord questo risulterebbe questa ve l'ho fatta vedere anche questa ve l'ho fatta vedere ecco qui anche qui c'è riportato nel Corriere Adriatico l'incrocio con i militari che hanno impedito la fuga di questi ladri in seguimento da film perché è stato un inseguimento roccambolesco poi finito naturalmente con l'arresto dei ladri andiamo a Monbaroccio un paese che conosciamo molto bene per tanti eventi per tante cose e anche per il referendum sulla fusione con Pesero però buone notizie dal punto di vista dei lavori perché grandi lavori a Monbaroccio dopo il santuario arriva anche la strada il sindaco dice in via Turlo abbiamo uno dei punti più critici della nostra viabilità però insomma presto arriverà una risoluzione e quindi situazioni a rischio che vedono l'intervento di fondi per cui si sarà una una risoluzione di questo punto critico della città eccola qui la pagina di Fano del periodo Adriatico dove si parla appunto del sequestro nell'articolo di Massimo Foghetti tanti dettagli l'azione della polizia accompagnata da Bengala per illuminare quasi a giorno la zona e impedire la fuga di questi cinque albanesi perché una volta vistisi scoperti hanno tentato di dileguarsi col favore delle tenebre ma la polizia ha messo in atto tutte le manovre possibili per acciuffarli e sono stati appunto presi e scoperto questo traffico di marijuana via mare una trappola preparata dagli agenti del commissariato di Fano insieme ai colleghi di Pesaro e di Ancona era da tempo che si monitorizzava questa zona perché c'erano stati altri sbarchi sospetti e appunto sulle spiagge di Marzocca erano state recuperate 55 kg di droga insomma era una zona questa appetibile per i ladri per i malviventi per coloro che fanno lo smercio di droga per portare per sbarcare forse perché meno gettonata da questo punto di vista si parla nelle pagine del Corriere Adriatico degli eventi uno qui a Fano prossimo è quello che investirà tutto il borgo Cavour oggi e domani animazioni in vernacolo per i più piccolini anche gastronomia attività e tante cose musica arte faranno da cornice a questa tradizione storica di questo borgo così insomma così questo luogo così bello così carico di storia di Fano due giorni per il borgo in festa tutto da tutto da vivere tutto da gustare anche visto che ci sarà anche buon cibo con cui deliziarsi anche qui nelle pagine del Corriere Adriatico arriva la doccia gelata per il referendum quesito inammissibile doccia fredda appunto per il comitato che insomma aveva è stato istituito io firmo per la salute non ci sarà il voto popolare sull'ospedale unico due scogli il rituale seguito e la competenza comunale il mondo politico è un po' disorientato perché dice così non ci sono ostacoli al progetto di Ceriscioli nella Val Cesano vi segnalo insomma le motivazioni che sono state pubblicate per qualcuno se lo ricordo l'omicidio di questa donna Ruggeri la moglie l'ha colpita con forza e intendeva ucciderla queste sono le motivazioni appunto pubblicate della sentenza per l'omicidio di Rossella Iatesta che vedete qui in questa bella foto che era circolata anche in occasione del brutto fatto di cronaca sempre nella Val Cesano con le pagine del Corriere Adriatico vi porto a insomma tanti eventi che ci sono abiti, musiche banchetti magici siamo a Mondavio per la caccia al cinghiale per tre giorni si la Proloco metterà a disposizione gratis i vestiti per la cena e mercatini e animazione saranno pervasi insomma la città sarà pervasa da tutto questo movimento andiamo a Senigallia andiamo a Senigallia per un incidente mortale è avvenuto una giornata di ieri alle dieci e mezza di mattina un tragico incidente stradale che è costato la vita a un giovane centrale centauro che è morto in autostrada i soccorritori lo trovano riverso sulla carreggiata addirittura a 400 metri dalla sua moto quindi insomma un volo fatale uno schianto contro il guardrail si chiamava Giorgios Aslanidis aveva 21 anni e tornava in Grecia per il Ferragosto viveva in Germania e poi siamo insomma sul lungomare di Senigallia anche qui piomba su tre auto in sosta caccia al pirata è avvenuto anche a Bellocchi qui a Fano se avete seguito il telegiornale di ieri un boato nella notte svegli residenti e turisti del lungomare Italia stessa cosa è avvenuta anche a Bellocchi l'altra notte a Senigallia si parla nella pagina di Senigallia si parla anche di un io ho scampato all'attentato per un impiego di lavoro racconto shock dalla Thailandia dell'imprenditore Luciano Urbani c'è stato un assalto in Thailandia a dei turisti uno di questi appunto era Lucio Urbani che racconta ciò che è avvenuto nelle croniche nazionali e riportato questo fatto quindi insomma potete trovare questo addentellato locale e chiudiamo con una bella pagina una pagina di sport una campionessa marchigiana la di Francisca la schermitrice che torna a Iesi dopo una una bella una bella gara nelle Olimpiadi che si stanno disputando a Rio de Janeiro e quindi insomma porta a casa un argento questa atleta marchigiana che dice una lezione di vita e la di Francisca è tornata nella sua amata Iesi e quindi insomma questo è riportato qui nelle pagine delle Marche in primo piano nel Corriere Adriatico c'è l'intervista insomma chiudiamo con questa bella pagina con questo episodio positivo di sport che riguarda le Marche è un atleta marchigiano oltre che naturalmente italiano grazie per averci seguito chiudiamo qui questa rassegna stampa l'ultimo di questa settimana torneremo la settimana prossima con occhio ai giornali e poi il nostro appuntamento serale con occhio alla notizia questo lungo ponte di Ferragosto passato nel modo migliore possibile il tempo forse ci darà una mano e quindi buon fine settimana e buon Ferragosto a tutti voi grazie a tutti